se hai bisogno di soldi, una giunta dell'axo o completi modati non esita a contattarmi iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen ragazzi iscrivetevi a tutti i miei social e se siete da ps in descrizione trovate i gruppi anche per playstation e adesso al nuovo video bentornati raga qua è Savix che vi parla allora ragazzi oggi vi racconto secondo me le cose che dovete sapere sul nuovo DLC ragazzi allora iniziamo con l'oppressor ragazzi che secondo me è la cosa più bella che abbiano fatto hanno reso i missili in accaccata come quelli del buzzard raga e hanno aumentato il tempo di ricarica dei flare e dei shaft quindi approvato un'altra ragazzi cosa simpatica secondo me che hanno fatto che dovevano fare dall'uscita di questo stack di gioco perché ce lo fanno comprare e poi non ce lo fanno usare è la possibilità di usare il caddy quindi ragazzi se voi chiamate l'agente 14 e scorrete tra i veicoli avrete la possibilità di chiamare il caddy ragazzi e finalmente lo potremo avere come veicolo personale e non dovremmo fare più i magheggi per poterlo prendere quindi raga approvato a questo punto possiamo passare a un solito errore ragazzi di rockstar che fa tutte le sante volte ragazzi è incredibile è incredibile tutte le sante volte fanno questo errore come potrete già immaginare ragazzi parlo di quest'auto la Stringogen GT che praticamente raga è diventata una macchina blindata praticamente voi comprate il mezzo e poi sarete praticamente come se fossi dentro una macchina blindata i vetri non si romperanno anche se noi ci spariamo sopra sono completamente ignari ai proiettili e quindi ragazzi approvato adesso raga parliamo dei saloon dovrà uscire un saloon non sarà solo uno saranno due l'unica cosa che mi ha girato tanto le palle raga è stato che secondo me dovevano farli uscire il 26 insieme all'aggiornamento perché non si può chiamare DLC raga quello è stato un aggiornamento quindi ho saputo anche di persone che in sessioni private raga sono riusciti ad entrare qua dentro perché la porta era aperta fatemi sapere nei commenti se anche voi ci siete riusciti quindi non approvato e niente raga per oggi è tutto non vi sto a trapanare le palline con gli snack e i giubbotti che ormai lo sanno pure le capre e niente raga io vi saluto e sbada bam al prossimo video buona visione buona visione ciao 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 Autore dei sorrisi